Ti prego, sta attenta, Miss Jade, qualsiasi cosa tu faccia, non farti scoprire, non avranno pietà. Ok, cercherà di raggiungerti. 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 Ti sei persa, tesoro? Ok! Ok, cercherà di raggiungerti. Nessuna fissa! L'unione fa la forza, Carlson e Peters, pagina 8, 2, 3. Lasciamoli andare e ci condurranno a una ricompensa ancora più grande. L'unione fa la forza. L'unione, pietà d'acqua, AN Ark. E fyrotana è posta quel multificato, non cercherà di laggiungerlo, non cercherà di raggiungerti, non cercherà di che riferire. Trancherà di Agprim entrepreneur di�ure. Ci servono degli indizi per trovare la nave. La rete Illy sarà già un altro attacco terroristico nel distruttore dell'Avalonio per distruggere il nostro sistema... Al Babucar e Izzam! I fratelli tuttofare di Mahmago! Perfetto! Scansione eseguita! Alla vostra prossima! Doppia H! Il faro! L'hanno distrutto! I bambini! Svelta, Miss Jade! Forse c'è ancora tempo! No! Non posso sparare qui! È troppo pericoloso! Più veloce, Miss Jade! Ma c***o! No! 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 Pabllo! Fenn! Yaw! Attenta, Miss Jade! Le squadre Alpha potrebbero essere ancora lì! Doppia H! Hanno preso i bambini! C'è nessuno! Umi! Zaza! Di apua! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo so, bello. Ma non è andata proprio così. I bambini sono scomparsi. E tu... Non hai potuto fare niente. Tu sei qui, sano e salvo. Che pensavi di fare? Credevi davvero di farcela, paubau? Ti sbagliavi. Ti sbagliavi, amico. Ti sbagliavi di grosso, purtroppo. Nessuno può fare niente. Nessuno può fare niente. Dobbiamo andare adesso, Miss Jade. È finita, doppia H. È finita. Sono ancora vivi, Miss Jade. Paige, i bambini, sono ancora tutti vivi. Giuseppe, i bambini, sono ancora tutti vivi. Un'alontra a due zampe. Pazzesco. Un'alontra a due zampe. Un'alontra a due zampe. Sì, non è vero. Tutto bene, misteri? Perfetto, ora dobbiamo solo capire dove inserire il secondo codice. Ma cosa c'entrano le scarpe? Io proprio non capisco. Grazie a tutti. 20 anni! Paige, me l'hai tenuta nascosta per 20 anni! Sono certo che voleva solo proteggerti. Così dovrebbe andare. La nave ora è pronta. È ora di un bel volo di pro... La nave ora è pronta. All'armi di fuori! All'armi di fuori! Attacchiamo le navi! Dobbiamo proteggerle! Preso! Dobbiamo prenderlo, altrimenti voleremo! State lasciando le acque territoriali? Direzione ignota! No sapevo un asimo! Non perderlo di vista! No sapevo un asimo! No sapevo un asimo! No sapevo un asimo! Trasmissione ricevuta! l'archivio subito. Bene, ho archiviato la foto. Dovremo stare molto attenti. Dicono che il tesoro si è sorvegliato da una colonia di crociax. No, non posso sparare qui. È troppo pericoloso. Bene, l'archivierò. Da quella parte, Miss Jade. L-U-F-L-A. L'unione fa la forza. Corico! Carlson e Peter! Grazie, Miss Jade. Crociax in vista! Grazie, Miss Jade. Rispetto alla tua squadra. Capitolo dopo. Si, non! Marciva! rabiata, viPagliata, viPagliata, viPagliata io e veni. Ricevuto! Attenta, Miss Jade. Stanno arrivando i rinforzi. Arrivano da tutte le direzioni. Se sopravviviamo, potremo comprare un motore stellare. Sì, non è vero. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È come nuovo, Jade. E l'installazione è compresa nel prezzo. Non può... Un meca-impulso... Perfetto. Scansione eseguita. Una scatola di kebab. Ripristina tutta l'energia. Perfetto. L'archivio io. Spazio profondo, arriviamo! Ma, ma, mago, augurati che il tuo motore non perda colpi. Algeny? Carro Omega? Alter? Doppia H! Siamo... siamo circondati da stelle! Oh! Il motore stellare aveva ritorni di fiamma. Quasi nuovo, aveva detto. Io avrei una ceroe. Foto splendida. Foto splendida. Bene, il tuo rullino è finito. Ottimo, Jade! Foto splendida. Ehi, Jade, dove eri finita? 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 Ehi, Jade... Ehi, Jade, dove eri finita?